Parcheggi del Fonte Scodella, liberati dalla neve ma contro il tonno Callipo Vibo Valencia, in molti hanno preferito il tepore delle mura domestiche e si sono risparmiati la quarta sconfitta consecutiva della Lube in campionato. I calabresi, autentica bestia nera quest'anno, Lube sconfitta anche all'andata, sono passati al tie-break dopo un confronto giocato con continui alti e bassi. Primo set vinto con facilità dalla truppa di coach Giuliani, mentre nel secondo la svolta della partita con il Callipo che ha la meglio 26-24. Terzo set da cancellare, imbarazzante 17-25, con Giuliani che sostituisce tra gli altri Travizza in ombra con Monopoli. Reazione d'orgoglio dai maceratesi nel quarto e tie-break giocato punto a punto fino al 18-16 finale per i ragazzi di Blengini. Negli spogliatoi Exigà e Giuliani sottolineano i molti errori commessi. Abbiamo iniziato molto bene la partita e dopo avevamo questo secondo set in mano e l'abbiamo lasciato alla squadra avversaria. Abbiamo fatto qualche errore in campionato italiano, quando fai qualche errore è un momento importante, le squadre sono qua per vincere la partita. Dobbiamo adesso togliere la sconfitta e pensare solo a questo obiettivo molto importante per la Lube e per la nostra squadra che è la Coppa Italia. Il grosso ramarico nel secondo set. La partita sembrava essere in mano nostra, abbiamo avuto difficoltà tra l'altro con la palla in mano, abbiamo permesso a Vibo, ottima squadra, di riavvicinarsi e di giocarci questo brutto scherzo. La stanchezza c'è perché siamo in lizza su tutti i fronti, ma soprattutto mi preoccupa il poco tempo ancora per allenarci perché oltre che la stanchezza che ti porta via magari un po' di volontà, ho visto anche qualche problema tecnico a cui irsi in quest'ultimo periodo. Partiremo venerdì perché sabato ci alleneremo, venerdì pomeriggio ci alleneremo già sul campo di gioco della Final Four di Coppa Italia, due o tre giorni, in particolare uno lunedì per riposare, importante anche quello, poi due o tre giorni per mettere a fuoco alcune situazioni che ultimamente stanno un po' degenerando. Speriamo che Stankovic sia recuperato perché ci farebbe piacere affrontare questa finale con tutta la rosa a disposizione.